Ciao a tutti, sono Marco Gezza, brand ambassador Italia per Beam Sanctuary. Oggi parleremo insieme di Nob Creek nelle sue due versioni, Rye e Bourbon. Nob Creek viene prodotto nelle distillerie di Jim Beam, pensate 225 anni di storia e 8 generazioni tramandate di padre in figlio, di famiglia in famiglia. Pensate che addirittura i lieviti utilizzati nelle distillerie di Jim Beam hanno oltre 100 anni di storia. Infatti Jim Beam era solito portarsi a casa ogni weekend un pezzettino di lievito dai propri frigoriferi e questa tradizione è stata mandata avanti di successione in successione. Questo ha reso possibile utilizzare ancora il ceppo di lieviti originale. Nob Creek è un Bourbon particolare prodotto nelle distillerie di Jim Beam. È un Bourbon che nasce nel 1992 per opera di Noe che decise di creare una serie di Bourbon small batch prima di lasciare poi le redini della distilleria al figlio. Un Bourbon sapientemente invecchiato, fa ben nove anni di invecchiamento in botti di quercia bianca carbonizzata. Bourbon e Rai ovviamente. Anche il Rai nove anni di invecchiamento. Bourbon che come vuole il disciplinare deve contenere almeno il 51% di mais, mentre il Rai whisky che deve contenere almeno il 51% di segale. Due Bourbon a grado quasi pieno, due Bourbon overproof che escono a 50 gradi alcolici. Bourbon e Rai quindi ottimi per essere bevuti così lisci o accompagnata del ghiaccio ma sicuramente molto molto versatili anche per quello che riguarda la mixology moderna. Infatti tutti i grandi classici primi cocktail nascono proprio in America e nascono proprio con il Rai whisky e con il Bourbon. Se da una parte con il Bourbon abbiamo un whisky più morbido, un whisky più vanigliato, con il Rai whisky grazie proprio alla presenza massiva della segale abbiamo un whisky spiccatamente speziato con queste belle note di speziatura. Quindi che dire, va solo aperto e assaggiato. Grazie.